Ciao, oggi video sui prodotti più utilizzati di makeup in questo periodo come base sto utilizzando da quando l'ho acquistato il Complexion Rescue Diver Minerals vi avevo fatto il video applicazione, io ce l'ho nella colorazione Vanilla 02 è un gel idratante colorato con SPF 30, mi sta piacendo tantissimo è difficile che io utilizzi una base per così tanto tempo, proprio continuativo e questo è l'unico dei fondi che ho che mi tiene idratata la pelle non mi segna assolutamente le pellicine, non lo sto più applicando col pennello nonostante non mi piaccia applicare le basi con le mani, ma lo sto applicando con le mani perché noto che mi fa meno effetto striatura, ce lo vado proprio a massaggiare come se fosse una crema mi sembra anche che copra un pochino di più nel video applicazione alcune mi avevate scritto che sembrava che avessi la pelle unta dal vivo non è affatto così, è proprio un gel che dà un effetto luminoso non è per niente unto, se no non lo userei, anche perché l'effetto unto l'ho avuto per tanto tempo che ci sto ben lontana, questo fa un effetto luminoso veramente molto bello anche alla luce del sole riflette la luce, è veramente bellissimo l'unica cosa non lo consiglio a chi ha la pelle grassa perché potrebbe lucidare a me che ho la pelle tendente al secco, mi mantiene la pelle idratata tutto il giorno ed è l'unico fondo che sto utilizzando veramente tanto perché come vedete ha meno di metà confezione non lo fisso con la cipria perché non ne ho bisogno e mi rimane tutto il giorno vado a mettere questo come base e poi dopo come correttore per le occhiaie vado a mettere qualcosa di illuminante e basta non ho un'occhiaia importante e usando le goccine d'ufrasia mi si è schiarito anche quel poco che avevo quindi vado solo ad illuminare un pochino la zona qui sotto e utilizzo questo di color caramel come correttore nella colorazione 12 che è questa e io mi sto trovando benissimo con questo correttore avevo anche lo 08 che è quello un po' più aranciato per il contorno occhi secco per me è fantastico io lo vado a mettere qui in questa zona poi lo vado a tamponare con una cipria solo dove ho il correttore così per settarlo e sto utilizzando questa polvere di seta di Aushka che avevo preso parecchio tempo fa ed è una polvere che va bene per tutto il corpo è impalpabile e non contiene talco questi sono gli ingredienti quindi con questa proprio mi si fissa il correttore non mi fa assolutamente delle rughette per togliere magari un po' di polverosità sto utilizzando questo olio della Nuxe del quale ve ne avevo già parlato nel video di preferiti e lo vado a spruzzare sulla mini beauty blender poi dopo lo tampono proprio nella zona del contorno occhi non sprego perché se no andrei a togliere il prodotto lo vado a tamponare per mantenere la zona idratata e così non ho problemi di secchezza durante il giorno non ho problemi che mi vengano magari segnate le rughette dal correttore o dalla cipria tampono semplicemente questo dopo che la cipria si è settata e esco di casa e io fino a sera sono a posto poi per quanto riguarda gli occhi utilizzo questo primer di Zoeva che mi ero scordata di avere e quando me ne sono accorta praticamente me ne sono accorta una settimana fa quindi non è il più usato ma devo usarlo perché sarebbe scaduto ma era chiuso sigillato e quindi lo sto provando a usare non mi sta dando problemi perché utilizzando sempre quello della Too Faced che è infinito me ne è rimasto un pochino però comunque dopo più di un anno è ancora lì che ce n'è funziona quindi anche se è scaduto il powder sto utilizzando lo stesso sono andata a recuperare questo per provarlo perché era ancora lì inutilizzato quindi lo vado un po' ad alternare e mi piace molto è al contrario di quello della Too Faced un pochino colorato è beggiolino questa è la versione matte non so se ve l'ho detto comunque è leggermente beige quindi mi va a uniformare la palpebra visto che io ho problemi che comunque avendo la pelle molto sottile mi si vedono i capillari con questo mi si uniforma bene e poi come palette perché utilizzo prevalentemente palette gli ombretti singoli sono battissimi sto utilizzando maggiormente questa della Urban Decay di Gwen Stefani questa la faccio vedere al volo nei miei video non l'avete mai vista perché non ve l'avevo mostrata questa palette mi sta piacendo moltissimo e poi anche quella della Zoeva la Cocoa Blend famosissima ormai vista e rivista per avere un trucco un po' più caldo uso questa altrimenti vado sulla Gwen Stefani sono due palette che mi stanno dando tante soddisfazioni come ombretti singoli che adesso non ho qua utilizzo prevalentemente quelli di Nabla che quelli mi piacciono sempre moltissimo però sto preferendo insomma queste palette ultimamente utilizzo queste anche perché mi sono imposta di utilizzare un po' tutto quindi ultimamente quelle che utilizzate sono loro poi per quanto riguarda il mascara vado velocissima perché è sempre lui che anche lui non termina più lo sto utilizzando da 5 mesi e ce n'è ancora quindi finché non finisco utilizzo quello di avril che è ancora nel packaging vecchio lo utilizzo tutti i giorni mi trovo benissimo e quindi super promosso per le sopracciglia vado ad utilizzare sempre la brow divine di Nabla che io ho nella colorazione Venus e la vado a fissare con questo gel di lavera alternandolo a quello di Kiko però anche questo gel di lavera che avevo acquistato su Ecco Verde mi sta piacendo parecchio è in un'unica colorazione Hazel Blonde comunque non colora più di tanto cioè va a fissare e basta non dà colore poi qua c'è il pennellino che io non capivo come fare aprirlo comunque tirate il tappo e c'è il pennellino per pettinare le sopracciglia per quanto riguarda le matite occhi per illuminare sto utilizzando tantissimo gioia di Neve Cosmetics delle pastello questa qua è veramente luce pura e la vado ad utilizzare nella parte vicina al condotto lacrimale questa è quella che utilizzo in assoluto di più per illuminare poi invece nella rima interna come matita burro sto utilizzando molto la Magic Pencil di Nabla l'unica colorazione che era uscita all'inizio adesso sono uscite anche le altre colorazioni che io non ho e questa mi dura tutto il giorno altrimenti come matita nera sempre quella di Nabla però ultimamente ho gli occhi che un pochino tendono a lacrimare e quindi vado ad utilizzare una matita adesso vi ho portato qui in rappresentanza quella nera di puro bio che nella rima interna non tiene per niente almeno a me la vado praticamente a se lo trovo qua pocciare dentro a un eyeliner in crema waterproof in questo caso io ho quello di Maybelline e così come oggi mi dura veramente tutto il giorno è anche difficile da spruccare quindi io cosa faccio praticamente prendo la matita la e intingo nel gel nell'eyeliner in crema e la vado ad applicare effetto nerissimo effetto duraturo non la togliete neanche con le bombe poi per ah ecco mi ero scordata come ombretto singolo li sto sono bando tutti ma questo in assoluto è il mio preferito quello di Urban Decay Solstice se riesco ve lo apro ve lo faccio vedere questo è un ombretto meraviglioso e questo lo vado ad applicare ce l'ho anche oggi solo nella parte centrale della palpebra per dare comunque luce è veramente bellissimo questo ombretto costa tanto ma vale tutti i soldi spesi con il 20% poi il bronzer di Too Faced nella colorazione medium deep la Chocolate Soleil che è una terra fredda non arancione quindi un sottotono freddo come piace a me questa usata e strausata come illuminante che io metto pochissimo perché mi dimentico il Mary Lou Manizer di The Balm anche questo ve l'ho fatto vedere stravedere conosciutissimo e bellissimo soprattutto in questa stagione primavera estate top e per quanto riguarda invece il blush ne ho due che vi ho portato allora questo vado velocissima Benecos Salsi Salmon sempre i blush Benecos che ritornano questo l'ho appena bucato ieri Gioia e Gaudio poi ho riscoperto perché ce l'avevo lì da un po' sempre che ogni tanto vado a vedere nel cassetto e dico ah non avevo anche lui questo della Bow Green che io ho nella colorazione Guad Rose questo è pigmentatissimo quindi va messo con moderazione e sfumato perché se no fa effetto clown veramente è super pigmentato però è un colore che fa un effetto proprio sano è luminoso al viso mi piace tantissimo quindi quelli che sto utilizzando di più sono questi due in queste due colorazioni per quanto riguarda le labbra sto usando dei gran burro cacao per il fatto delle labbra secche quando voglio mettere qualcosa di colorato metto questo gloss che ho su anche oggi della Bow sempre nella colorazione 08 mi sembra che sia orchidea una roba del genere ed è bellissimo secondo me ha una profumazione di caramella alla frutta comunque una profumazione agrumata è un colore l'ho messo proprio comodo aspettate è un colore bellissimo lucido però non è per niente appiccicoso bello idratante non segna le pellicine l'unica cosa tende appena appena a sbordare quindi io vado a mettere sempre la matita ghost di Nabla prima di applicarlo però veramente questo gloss merita perché è bellissimo tiene le labbra idratate da lucentezza e bella quando voglio proprio mettere qualcosa che mi piace tanto di viola vado a mettere questa matita di puro bio la magenta dovrebbe essere comunque la numero 20 occhi e labbra che mi aveva regalato Francesca fatina dei libri che saluto e mi piace tantissimo questa matita la uso sia per il contorno che per fare tutte le labbra e l'ho utilizzata anche come eyeliner sugli occhi mi piace tantissimo è un colore che è proprio il mio colore e poi non ho qui il rossetto di Nabla vertigo bellissimo insieme a ombre rosa sono i miei preferiti quindi quei due rossetti e come matita labbra cremosa questa di Kiko che io ho nella colorazione 315 che è questa confortevolissima e non va a seccare per niente le labbra questa solitamente la vado ad utilizzare su tutte le labbra e poi vado ad applicare un gloss come gloss sto utilizzando anche questo di Nabla nella colorazione magazine che è questo anche lui ha una profumazione questo è più di limone questo è appena un po' più trasparente di quello di Bo quello di Bo è abbastanza coprente questo è un po' più trasparente molto lucido anche questo molto molto bello e lo vado a mettere sia sul rossetto che da solo basta spero di avervi fatto compagnia vi ringrazio per aver visto anche questo video e se vi va ci vediamo alla prossima ciao